Ciao amici! Oggi facciamo le pizzette di armi con un naglietto sopra, un naglietto, un naglietto sopra. Oggi facciamo delle pizzette piccole come come un totale e sopra ci mettete il naglietto perché è una cosa stupenda. Prendete un pizzellino e fate le pizzette per una base di pizza. Adesso rimettete un pochino del forno e fate la zucca prima di iniziare a fare questa cosa. Adesso prepariamo i naglietti. Mettete un po' di mozzarella e un po' di pomodoro. Mettete prima il pomodoro. E poi mettete una mozzarella sopra a pomodoro. Fatto così sembra più colorato e più bello. Poi mettete un altro cucchialino di su che lo mettete dentro. Gocciolato un po'. E poi mettetelo sopra le nostre pizzette. Gli ho pommate un po' a volte. Quando sta per gocciolare. Poi facete di nuovo come prima. Facete ogni volta tutto a capo. Poi mettete un po' di zucchero su un'anta. Un'anta pizzetta. Mettete un'anta mozzarella qui. Poi mettete la mozzarella. L'avete visto? L'avete visto? Potete anche assaggiarlo. Se vi va. Perché il sugo è buono. Potete anche mangiarlo se volete. Guarda qua. 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 Adesso mettete la niente dalle nostre pizze Ecco le mie pizze di Halloween c'è la mia pizze Speri anche il video Adesso, il video è il tuo nome C'è sempre il tuo bene C'è sempre il tuo nome Che il tuo einem Pari, pari, da te la data!